Benvenuti ad una partita normale, test match Italia-Giorgia, ciao da Stefano Franceschi, ciao da Inero del Rugby, siamo a Firenze e questa volta ci vogliamo divertire in diretta perché un pochino ce lo meritiamo, un po' perché l'han chiamata una partita normale e oggi invece siamo sicuri, siamo sicurissimi che sarà una partita che segnerà la storia del rugby, sicuramente la storia del rugby giorgiano e probabilmente, molto probabilmente, quasi sicuramente anche del nostro rugby, per cui a questo punto cosa vi dobbiamo dire? Andiamo sui pronostici, giochiamoci i pronostici, allora l'Italia, 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 l'Italia che cosa fa? Pronosticate anche voi, intanto vi dico la mia, l'Italia vince di meno di 7 punti, ma questa volta veramente ce lo facciamo.